Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti piace? Meravigliosa. È un po' un misto tra... Sai quelle cose un po' particolari che ti piacciono ma non sai fino a quanto e allo stesso tempo vorresti averla. Mi dò guarda, sono contento. Riccardo lo disturbo un attimo visto che lui è lui il colpevole di Totem Automobile. Scusatemi, scusatemi. Ciao Riccardo, benvenuto sul Bruce Garage. Adesso lo disturbo due secondi ma proprio perché l'ho trovato qui e volevo fargli complimenti in diretta. Primo per quello che ha fatto, secondo perché in settimana avete dichiarato anche che ne farete dieci col 29 V6 biturbo di Ferrari. Esattamente. Velocissimamente perché non c'è nulla di preparato. Come ti è venuta l'idea di fare questa macchina? Come è nata proprio? Chiudi gli occhi, ricordati quando è nata. Io lavoravo in Alfa Romeo e a me piacciono le macchine, mi piacciono le auto d'epoca e praticamente in Alfa Romeo tutto era deciso dal marketing. Mi ero rotto abbastanza le palle perché io ho detto non possiamo neanche fare una macchina fatta come si deve. Io ho detto la macchina la faccio io, mi sono licenziato a lavorare in Alfa Romeo e il giorno dopo ho partito dall'azienda e ho fatto questo. Ma sei un grande, sei. Senti noi continuiamo ad ammirare, ma io ti vengo a disturbare poi in Veneto a casa così magari me la racconti con un pochino più di calma. Io adesso non ti voglio disturbare, volevo soltanto presentarti ragazzi del Bruce Garage e farti i complimenti in diretto perché è mezzo esagerato veramente. Vai avanti così, ti tengo d'occhio. Ciao, a presto.